la valle roveto alla valle roveto si accede da un lato dalla terra di lavoro e dall'altro dalla conca fucenze attraverso la ferrovia avezzano sora rocca secca o a mezzo della strada carrozzabile la strada ferrata non ha caratteristiche bellezze da rocca secca in su se si toglie la fuggevole visione di isola dell'iri ma è grandiosa e ardita costruzione e offre lo spettacolo di incantevoli panorami da balsorano ad avezzano la fertilissima valle solcata dall'iri è attraversata da un capo all'altro e il fiume è doppiato in molti punti su ponti poderosi a travature metalliche ma l'incantevole soffre al viaggiatore subito dopo canistro laddove la strada ferrata traforato il colle di pesco canale si avvia con pendenze che vanno dal 9 al 25 per mille verso la stazione di capistrello la valle va restringendosi mano mano fino alla strozzatura di capistrello e la strada ferrata deve inabbissarsi spesso entro le cavità dei monti per superare le barriere naturali infatti si incontrano le due gallerie della parata e dello sperone e quindi quella lunga 1327 metri detta di capistrello che è tutta in curva all'uscita per un breve tratto si scorge alla destra la insenatura dell'emissario fucense tra picchi e balze orridamente belli l'acqua bolle nel cavo sottostante nel vorticoso fluire mentre la massa cospicua dell'emissario torronia già claudio si versa dall'enorme squarcio del monte tra un velo di spume e un ricamo di vapori subito dopo il treno si inabbissa novellamente entro la galleria detta dell'emissario e quando ne esce si ha la possibilità di vedere il paese di capistrello ma qui tutto è fuggevole le visioni non hanno la virtù di protrarsi a lungo la natura del luogo ha richiesto dalla fantasia dei tecnici le più ardite concessioni ingegneria le gallerie elicoidali si susseguono per dare agio alla ferrata di superare disrivelli non indifferenti e barriere naturali poderose si entra nella galleria della giorgia di 1412 metri la cui pendenza è circa del 20 per mille l'andamento sinuoso del traforo permette di raggiungere la stazione di capistrello a metri 724 sul mare nel bordo della silenziosa e verde pianura palentina dalla stazione di civitella roveto che si trova a 518 metri abbiamo superato un dislivello di 206 metri su 11 chilometri di percorso la galleria del salviano da quindi agio di entrare nella conca fucenze e di raggiungere avezzano ovvero la ferrovia si innesta alla roma castellammare così come a rocca secca si innesta alla roma napoli la ferrovia dunque offre visioni panoramiche incantevoli e da agio di scendere a capistrello a canistro a civitella roveto a civita d'antino e a san vincenzo valle roveto a balzorano ove la villeggiatura potrebbe essere avviata con fortuna qualora le condizioni edilizie venissero migliorate del resto civitella forma anche oggi la meta di qualche famiglia romana che ama le solitudini della vallata del querulo liri mentre civita d'antino è stato per il passato senza dubbio un soggiorno delizioso per stranieri amanti del panorama infatti numerosi artisti svedesi norvegesi e tedeschi venivano or sono oltre 15 anni a dipingere le bellezze di questa svizzera d'abruzzo e a civita d'antino si conservano in una stanza custodita religiosamente memorie di questo passato di glorioso trionfo dell'attività esercitata dal vezzoso paese che già fu sede dell'antica antinum di cui si osservano ruderi numerosi avremmo occasione di visitarla or sono quando quattro anni fa ci andammo e un sacerdote colto e geniale ci fece da amorevol guida la fama di civita d'antino si deve al fatto che dai suoi picchi famosi si può agevolmente scorgere da un lato tutta la valle fino a capistrello e dall'altro fino a balzorano se si pensa che civita si trova le falde di un monte il grotta ferretti di 1742 metri e ha una strada carrozzabile davvero bianco e levigato nastro si può arguire come la sua posizione si offra con facilità all'industria del forestiero anche canistro si offrirebbe per l'altezza che è di 831 metri e la posizione ma non è servito da strada carrozzabile balzorano aveva un castello che fu dei piccolomini un castello di grande bellezza ma il terremoto deve averlo annientato morino aveva una miniera di ferro ora abbandonata e san vincenzo una cava di marmo che somiglia all'alabastro la valle roveto fertilissima produce cereali vini legumi oli frutta in abbondanza e a pascoli opimi e molta selvaggina i cacciatori vi potrebbero andare vantaggiosamente ma l'incanto maggiore sarebbe nel regarvisi in auto per la strada carrozzabile un di percorsa dalla cigolante corriera da avezzano si sale la strada cosiddetta del salviano che fa ammirare la grande distesa del piano fuciense dopo giri e svolte per forre sonore si arriva al valico tra i monti cimarani e il monte dari di metri mille uno si scorgono il velino e la magliella lontana dietro la cortina delle montagne marsicane dal lato opposto i piani palentini cui fanno da scudo montagne fitte di boscaglie si discende fino al piano si raggiunge capistrello a 641 metri d'altezza dal cui centro si godono panorami incantevoli e per strada incassata nel duro fianco del monte si discende dolcemente a valle tra continui tornichè in un susseguirsi di opere d'arte di protezione i ponti in muratura sono numerosi a valle si incontra santa croce di canistro da dove per filettino si può raggiungere la provincia romana su strade mulattiere meta ricercata di escursionisti ed alpinisti a chilometri 21 circa da avezzano la strada raggiunge il piano al livello del fiume e tocca civitella a 490 metri sul livello del mare da cui si può scendere il monte velì il monte viglio di 2156 metri che fu meta sovente delle escursioni alpinistiche di leoni da bissolati quando nel cuore dell'inverno tutto era incappucciato di neve l'alta valle in cui esita la frazione di meta alle falde del monte viglio è veramente bella silente e salubre più a valle la strada si innesta al ramo che sale dolcemente a civita d'antino di cui abbiamo parlato si raggiunge quindi morino a 550 metri d'altezza dalle squisite trote dell'iri per proseguire tra un incanto di panorami e un folleggiare di vegetazione per san vincenzo in valle roveto e balsorano a chilometri 42 circa da avezzano più oltre di due chilometri circa è il confine con la terra di lavoro la valle roveto che sta al confine tra l'abruzzo il lazio e la campania è veramente meritevole di attenzione se fosse più curata dagli enti dal governo e degli abitanti stessi potrebbe senza dubbio divenire meta di villeggiatura per chi aspira veramente alle aure salubri e ai silenzi idilliaci che riparino l'organismo leso dalle mefite e dal frastuono delle città rumorose grazie 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 grazie